Adamo Dionisi. Roma, 30 settembre 1965. Roma, 19 ottobre 2024. È stato un attore italiano. Per anni capotifoso degli Irriducibili, gruppo Ultras della Lazio, Dionisi fu arrestato nel 2001 dalla Digos per una vicenda di droga. Scontò la sua pena nel carcere Capitolino di Rebibbia, dove prese parte a vari progetti teatrali. Nel 2018 prese parte al fortunato film Dogman di Matteo Garrone e nel 2023 fu nel cast di Enea di Pietro Castellitto. Dionisi è morto il 19 ottobre 2024 all'ospedale Fatebene Fratelli di Roma, dopo una breve malattia all'età di 59 anni. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!